La Procura di Pescara ha chiuso il filone d'inchiesta relativo all'urbanistica, gli accordi di programma e i rifiuti al Comune di Spoltore, che il 26 luglio scorso ha portato agli arresti domiciliari l'allora sindaco Franco Rangheli, l'ex presidente del Consiglio regionale, Marino Roselli, e l'ex presidente di Ambiente S.p.A., Luciano Vernamonte. L'avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal PM Gennaro Varone. 16 in totale gli indagati, tra ex assessori, ex consiglieri comunali, tecnici comunali ed imprenditori. Le accuse da cui devono difendersi vanno dall'Associazione per delinquere, alla corruzione, alla tentata concussione, al fasso ideologico, sino all'abuso d'ufficio. Secondo gli inquirenti, Roselli, Rangheli e Vernamonte, insieme ad un consigliere comunale di maggioranza e un assessore e un imprenditore, avrebbero costituito una vera e propria cabina di regia, allo scopo di condizionare le scelte amministrative e politiche del Consiglio e della Giunta, in cambio di vantaggi elettorali e personali. Il filone d'inchiesta chiuso oggi riguarda in particolare PRG, accordo di programma sul cimitero, appalto del servizio di igiene urbana, gara d'appalto per la riscussione delle multe e dell'imposta sulla pubblicità e realizzazione del mega complesso residenziale denominato la Villa Costruzioni. Resta ancora aperto quello relativo al centro commerciale City Moda di Santa Teresa di Spoltore, che sarà chiuso a breve. Nell'ambito del filone City Moda, nei giorni scorsi sono stati acquisiti nuovi atti. Le indagini sono condotte dal Comitato Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, in collaborazione con la Polizia Giudiziaria della Forestale.